Mister Milito è finita la regular season del campionato allievi regionali, purtroppo la qualificazione per l'offe sarà mancata proprio nell'ultima partita, ma il bilancio in tema di ragazzini lanciati e di lavoro fatto mi sembra abbastanza positivo. Direi che nettamente positivo, considerati i presupposti di inizio stagione non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi di questi ragazzi che peraltro sono alle nostre spalle e stanno regolarmente allenandosi come se nulla fosse accaduto. C'è ovviamente una grande malinconia per l'occasione fallita, però sicuramente il loro impegno non verrà meno in questa parte finale della stagione, anche perché abbiamo intenzione di proporli anche nella categoria superiore, dove ci auguriamo che possano essere di supporto alla squadra avveniores e perché no, anche in vista della prossima stagione, pure per i grandi, quindi per la prima squadra. Qualche nome lo facciamo noi in base alle cose viste e a quelle che ci sono state riferite, Laiola, Donnarumma, ma anche Bomber Esposito, ragazzini che sono pronti per un discorso futuro abbastanza interessante, credo. I nomi fatti sono ragazzi che fanno già parte stabilmente del gruppo Juniors, anche se Esposito è venuto dal gruppo nostro allievi, credo che dovrei farlo un po' tutti, considera la stagione che hanno fatto e i livelli tecnici, tattici, ma anche comportamentali ai quali sono giunti. Quindi mi sento di dire che i tre sono sicuramente tre punte di diamante di questa rosa giovanile, ma ce ne sarebbero da fare tanti altri. Se li facessi sbaglierei comunque nei confronti di qualcuno dimenticandolo, però mi sento di dire che tutti quanti hanno offerto un rendimento nettamente superiore alle nostre aspettative, anche perché sono dei ragazzi che fanno parte di una rosa unica che arriva da due realtà distinte che paradossalmente a inizio campionato non dobbiamo nemmeno iscriversi a nessuna attività. Quindi se pensiamo al rischio che abbiamo corso di perdere, non dico dei talenti, ma dei ragazzi che sicuramente meritano di fare sport perché hanno ben compreso il senso del gruppo, il senso di appartenenza a dei colori sociali. E voglio citare che domenica, pur avendo perso uno spareggio in casa, sono stati forse non esemplari sotto l'aspetto tecnico, perché purtroppo la partita si è persa, ma sotto l'aspetto comportamentale hanno riscosso il successo anche della tifoseria ospite, conquistandosi anche i loro meritatissimi applausi perché sono stati sotto l'aspetto disciplinare veramente encomiabili. Un'ultima domanda, i ringraziamenti al gruppo, praticamente già provveduto lei con queste parole, ringraziamenti agli staff, collaboratori, genitori. Allora io non posso che partire da Carlo Staiano che è una presenza stabile che sta attorno a noi, è un grande supporto oltre organizzativo ma morale, perché nei momenti in cui ti tocca fare una scelta, lasciare qualche ragazzino fuori con tutto quello che ne consegue, Carlo è l'alter ego che sa dire la parola giusta per tenere su il morale anche dei ragazzi momentaneamente esclusi. Non posso dimenticare però i genitori che stanno attorno a questa vicenda, in particolar modo il signor Altieri e il signor Matrone, che sono stati una presenza costante e che hanno consentito proprio la creazione di questa realtà sportiva. Ovviamente ringraziamento proprio a tutta la società della Scafatese e al Presidente Verone. Spero di non aver dimenticato nessuno perché farei torta a qualcuno che invece ci è stato molto utile.